A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Giorno, che dunque apriamo con questa vicenda, prendeva i soldi dalla cassa un funzionario del Tribunale scoperto dalle telecamere nascoste, ma ci racconta tutto nel servizio che segue Egidio Conca. In un anno ha sottratto 9.000 euro dalla cassa dell'ufficio dove lavorava, presso il Tribunale di Lucca. È stato scoperto grazie ad alcune telecamere nascoste e per lui, oltre alla denuncia per peculato, è scattata la sospensione dal lavoro. Protagonista in negativo della vicenda, un funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del Tribunale. Ad accorgersi degli ammanchi di denaro in cassa era stato un dirigente che quindi si era rivolto alla procura, i cui uffici si trovano nello stesso edificio del Tribunale, in via Gallitassi. La procura a sua volta ha affidato le indagini alla Guardia di Finanza di Viareggio, che ha installato alcune telecamere di videosorveglianza all'interno degli uffici. E il monitoraggio delle riprese ha consentito così di chiarire il mistero. Dalle casse di cui aveva disponibilità per le incombenze dell'ufficio, il funzionario sottraeva costantemente e ripetutamente piccole somme, per lo più in monete o in banconote di piccolo taglio, per non destare troppi sospetti. Addirittura in un caso il dipendente, pur non essendo quel giorno in servizio, si era ugualmente recato in ufficio per il consueto prelievo. In questo modo, nel giro di 12 mesi, ha sottratto dalla cassa circa 9.000 euro. Il procuratore Lucia Rugani ha chiesto il rinviaggiudizio del funzionario. Nel frattempo, l'uomo è stato sospeso per un anno dal lavoro e la finanza ha informato la magistratura contabile del danno erariale a recato. Ed ora, come tutti i giorni, dati relativi ai contagi da Covid-19. Lo facciamo andando sul nostro sito www.noitv.it. Troviamo la notizia in primo piano. Marcia indietro del tasso di positività in Toscana, contagi in lieve calo. Leggiamo, i nuovi casi registrati in Toscana sono 824 su 19.725 test, 11.389 tamponi molecolari, 8.336 test rapidi. Comunque, il dato più importante, direi che è il tasso dei nuovi positivi, che è del 4,18%, pensate, contro l'8,4% della giornata di ieri. Aggiungiamo, perché i dati sono arrivati proprio pochi istanti fa, aggiungiamo che comunque al dato confortante del tasso che si è dimezzato dei nuovi positivi, purtroppo c'è l'aumento ancora dei nuovi ricoverati e anche delle terapie intensive. Comunque vi daremo poi tutti i dati completi, sia regionali che provinciali, nelle edizioni del TG9, a partire dalle 17.30. Torniamo studio e parliamo di cultura, perché c'è una sorta di derby, adesso capirete perché, tra Viareggio e Lucca. Cominciamo da Viareggio, che si candida a Capitale della Cultura per il 2024. Viareggio avanza la sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura per il 2024. L'annuncio è stato fatto dal sindaco Giorgio De Ghingaro, che ha portato la proposta in Consiglio Comunale. Dunque, dopo la decisione di proporre alcuni degli spazi pubblici della città a sede per le esposizioni del progetto Uffizi Diffusi, l'amministrazione comunale lancia questa ulteriore opportunità per valorizzare il patrimonio culturale della città. L'occasione è quella rappresentata proprio dal 2024, anno in cui si celebreranno i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, un evento che potrebbe fare da treno ideale per mettere la città al centro delle manifestazioni culturali in onore del maestro. Manifestazioni per le quali il neocostituito Comitato per le celebrazioni pucciniane 2024-2026 si è fatto promotore presso il Ministero per l'ottenimento di una legge speciale per le celebrazioni. Proprio in concomitanza di questo evento noi proporremo la nostra candidatura a Capitale della Cultura. Lo facciamo consapevoli che sarà un percorso complicato, sarà un percorso difficile, ma sarà un percorso appassionante, intrigante, suggestivo, nel quale saranno coinvolti tutti gli stakeholders territoriali e non sono territoriali. Oggi lanciamo questa nostra candidatura in forma ufficiale, a breve presenterò al Consiglio Comunale questa nostra idea e inizierà questa straordinaria avventura. Adesso dunque, dopo il passaggio in Consiglio Comunale, inizierà l'iter per presentare questa candidatura al giudizio dei sette esperti designati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che dovranno esprimersi in merito. Per il 2022 la scelta è andata all'isola di Procida, a Napoli, mentre per l'anno corrente è rimasta in carica la città di Parma, già a Capitale nel 2020, ma la cui proroga è stata inserita nel decreto rilancio. Abbiamo parlato di derby, in questo caso non calcistico, bensì culturale, perché andiamo ancora sul nostro sito. È arrivata la risposta del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Con un video pubblicato su Facebook, il sindaco si è definito sorpreso della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2024 di Viareggio, annunciata ieri dal sindaco del Ghingaro. Questo perché, dice Tambellini, Lucca si era già proposta lo scorso settembre ed Eugenio Gianni, che sarebbe poi diventato presidente della regione, aveva garantito il suo appoggio alla candidatura. Dal derby per la cultura alla vicenda delle ringhiere sulle mura urbane di Lucca. Si fa sempre più concitata la battaglia contro le ringhiere sulle mura urbane di Lucca. Con oltre mille firme raccolte in tre giorni, il gruppo consigliare di opposizione, Siamo Lucca, è tornato a rilanciare ancora una volta la sua contrarietà all'installazione delle balaustre metalliche su gran parte del perimetro interno, la parte più contestata del progetto di valorizzazione emessa in sicurezza delle mura riguardante le misure per prevenire le cadute. All'iniziativa di Siamo Lucca ha preso parte anche il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni. Secondo il gruppo di opposizione, le ringhiere in alcuni casi potrebbero diventare più pericolose della situazione attuale e per questo il gruppo è deciso a chiedere un incontro con la soprintendenza. In alternativa, la proposta di Siamo Lucca è quella di un potenziamento dei controlli della municipale e la creazione di un albo di cittadini volontari per i controlli quotidiani sul monumento. Siamo andando avanti a 100 adesioni al giorno. È un modo per ribadire che la battaglia è giusta, per ribadire che da un accesso agli atti che abbiamo fatto abbiamo scoperto che le ringhiere sarebbero estese su un perimetro di circa 3 km, nella parte interna ovviamente, che probabilmente alcune di queste balaustre verranno messe anche all'interno di alcuni baluardi, quelli ritenuti più a rischio, e anche davanti a una porta come questa, che storicamente è sempre rimasta in questo modo. Noi pensiamo che alcune ringhiere debbano essere messe, ma nei punti più pericolosi, non estese a tutto il monumento. Quindi combatteremo per fare in modo che questa petizione raggiunga anche altri obiettivi, 2.000-3.000 firme e soprattutto nelle prossime ore chiederemo un incontro con la superintendenza perché vogliamo dire la nostra ed evitare lo scempio. Ma sentiamo sulla vicenda cosa dice il sindaco di Lucca, Tambellini. Specifico perché per noi le mura sono sicure, erano sicure nella concezione generale che sia da lucchesi che abbiamo conosciuto le mura come sono sempre state. Poi sono accaduti alcuni fatti che hanno avuto la rilevanza, che tutti conoscono, perché poi qualcuno sta pagando in termini interiori notevolmente ciò che si è verificato e le azioni giudiziarie susseguenti, per cui le mura si è ritenuto di doverle mettere ulteriormente in sicurezza, cioè ancora stabilire maggiori criteri di sicurezza. Il progetto si vedrà, le barriere se ci saranno saranno, dove saranno, saranno esclusivamente all'interno, dall'esterno non si vede niente, sono la continuazione delle barriere che già oggi esistono con la croce interna, è un modello romano tra l'altro perché è un modello antichissimo come struttura, è un processo del tutto reversibile, per cui domani è andato via il sindaco Tambellini, il prossimo che ci sarà, se non ama le barriere, perché si fa un gran clamore su questo, prende la mola, si mette lì con un camioncino accanto e tira tutto al feraccio. Peraltro c'è una legge oggi che addossa tutto a tutto quello che accade ai sindaci, per cui un sindaco è responsabile delle cavallette, del tempo che fa, della nevicata, di tutto quello che arriva, della botta dell'acqua, eccetera, eccetera, quindi è necessario anche poter finalmente svolgere il proprio lavoro con un minimo, minimo di tranquillità. Questo è il sindaco Tambellini, cambiamo argomento, ci sono importanti novità per quanto riguarda il laghetto dei Cigni di Viareggio. Sono partiti i lavori di svuotamento e manutenzione del laghetto dei Cigni nella pineta riponente a Viareggio, un'operazione straordinaria che mancava da diversi anni, che consentirà di ripulire il fondale e la vasca di un luogo particolarmente caro ai Viaregini, che da anni raccoglie anche il ricordo del disastro ferroviario del 2009. L'intervento è stato coordinato dagli Uffici di Tuteli Animali del Comune, insieme ad I-Care, che ha in affidamento il sito, SEA, Polizia Municipale, WWF e la Vega Soccorso Animali. Insieme alla recinzione dello specchio d'acqua, gli operatori hanno provveduto a prelevare i volatili presenti. Si tratta di due Cigni, Pulce e Tanacca, e di 14 Germani e alcune tartarughe esotiche. Saranno tutti trasferiti temporaneamente all'Oasi WWF di Marina di Massa, al centro di recupero dell'Assiolo, dove saranno trasportati con ambulanza veterinaria. I Cigni e i Germani faranno ritorno a Viareggio appena i lavori saranno terminati, nel giro di pochi giorni, mentre le tartarughe esotiche resteranno i ronchi, giudicato un habitat più adatto alla specie. Andiamo nella Valle del Serchio, a fabbriche di Vergemoli, dove la locale amministrazione comunale ha distribuito ben 12.000 mascherine. Sono circa 12.000 le mascherine chirurgiche consegnate gratuitamente dall'amministrazione comunale di fabbriche di Vergemoli ai suoi cittadini, 20 mascherine a persona. L'iniziativa del Comune ha visto anche la consegna di un flacone da mezzo litro di gel igienizzante a famiglia, oltre ad alcuni saturimetri consegnati agli operatori sanitari. Abbiamo pensato di venire incontro alle esigenze della nostra popolazione distribuendo 20 mascherine a testa, per oltre quindi 12.000 mascherine distribuite dai volontari, dai consiglieri del Comune, a tutte le famiglie mezzo litro di gel e tramite una collaborazione con la Misericordia abbiamo donato 9 saturometri in modo che chi eventualmente ne avesse bisogno può fare riferimento alla Misericordia per questo prezioso oggetto. Infatti a consegnare il materiale sanitario anche i consiglieri comunali sia di maggioranza che di minoranza coadiuvati da volontari e componenti della Misericordia di Borgo Ammozzano sotto escezione della Val di Turite. Tanti gli apprezzamenti positivi per l'iniziativa firmata amministrazione comunale di fabbriche di Vergemoli. Siamo accolti bene dalla popolazione come sempre in queste occasioni, abbiamo partecipato come misericordia e siamo stati aiutati anche dall'amministrazione comunale, dai consiglieri, dagli assessori. Diciamo che siamo in fondo alla consegna delle mascherine e del gel. E visto che siamo tornati in tema di Covid ne approfitto perché sono appena arrivati i dati provinciali 96 nuovi casi in provincia di Lucca, ve li anticipo, 55, eccoli qua, perfetto Marco 55 nella piana di Lucca, 1 ad Alto Pascio, 23 a Capannoli, 25 a Lucca, 2 a Monte Carlo, 2 a Porcare, 2 a Villa Basilica 4, solo 4 casi nella Valle del Serchio, 1 a Bagni di Lucca e 3 a Borgamozzano e poi l'altra zona della nostra provincia in Versilia, 37 nuovi casi, 2 a Camaiore, 3 a Forte dei Marmi, 2 a Massarosa 8 a Pietrasanta, 5 a Seravezza e 17 a Viareggio. Bene, con questi dati proprio dell'ultimissima ora si chiude anche la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi il TG prosegue con le notizie sportive. Grazie per la visione!